Ciao a tutti, oggi prepareremo la confettura di mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono mele sbucciate e tagliate a pezzetti, zucchero di canna, succo di limone e cannella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna, le mele, il succo di limone e la cannella. Ed azioniamo il bimbi mettendo il cestello al posto del misurino per 40 minuti. 100 gradi, velocità a due. A questo punto andremo a frullare. Posizioniamo il misurino. per 20 secondi. A velocità a 6. La confettura è pronta. Trasferire in basetti di vetro sterilizzati, chiudere con il coperchio e capovolgere immediatamente per creare il sottovuoto. Successivamente lasciare raffreddare completamente prima di rigirarli. Confettura di mele. Si conserva in un luogo fresco e buio per 6 mesi. Dopo l'apertura, conservare in frigo per 7-10 giorni. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!